Sì, sicuramente è stato bello riassaporare il campo dopo tanti mesi fuori e la partita sapevamo che era una partita complicata, ce l'abbiamo messa tutta, credo che in alcune circostanze abbiamo anche messo in difficoltà l'Inter e per quanto mi riguarda volevo ringraziare tutto lo staff e i miei compagni di squadra che in questi mesi mi hanno sempre dimostrato la loro vicinanza e per me è importante, è stato anche più facile poi tornare in campo e trovare subito affiatamento con loro. Come è stato l'approccio sul piano della condizione? Come ti senti? Possiamo considerarti l'acquisto di gennaio? Adesso mi sento bene, è una sensazione bella tornare a correre senza sentire dei dolori quindi sicuramente per la seconda parte del campionato sarò a disposizione del mister quindi penso di poter dire che sarò a disposizione da qui finché non finirà la stagione. Sicuramente l'Inter era già un traguardo, San Siro, arrivarci indipendentemente dal risultato la sensazione di giocare in uno stadio vuoto, un vero peccato soprattutto per i tifosi del Benevento molti avevano già acquistato il biglietto, insomma era un po' un sogno tornare dopo lo scorso anno a San Siro. Sì sì, sicuramente so che era una partita storica questa qua perché mai il Benevento era arrivato così tanto avanti in Team Cup dispiace per le porte chiuse, sicuramente con il pubblico sarebbe stata una partita diversa, più divertente. Ed ora c'è il campionato, la prima di ritorno con Lecce, pensieri tutti venduti a questa sfida anche perché è uno scontro diretto. Sì, assolutamente, ci aspetta una sfida molto dura, ci ricordiamo l'andata che abbiamo recuperato una partita che sembrava persa invece poi l'abbiamo riacciuffata sul 3-3 e sappiamo che loro stanno facendo molto bene ma noi veniamo da un periodo felice quindi dobbiamo continuare come abbiamo concluso la prima parte di campionato. Al di là del gol di questa sera, difesa a 3, sei abituato con la Salernitana, hai giocato anche in una difesa a 3? Sì sì, ho giocato sia a 2 e a 3, nei momenti di necessità ho fatto anche il terzino destro quindi mi adatto un po' alle situazioni che ci sono di partita in partita.